Come sta andando lo sviluppo della banca digitale all'interno del vostro gruppo? Il progetto è partito poco più di un anno fa, quindi relativamente recente. Certamente l'avvio è stato estremamente interessante. C'è stato un grande interesse anche perché, a differenza della maggior parte delle banche digitali, che sono fondamentalmente banche di pagamento, nel caso di Easy Bank il progetto è un progetto molto più rotondo, in cui naturalmente in tempi che probabilmente saranno un paio di anni ci sarà la trasformazione di tutti i prodotti che oggi sono in forma analogica, quindi quando si va in filiale fondamentalmente, pensiamo dall'assicurazione al fatto di un investimento, piuttosto che a un mutuo. sono tutti parti essenziali di un sistema di banca che sia, diciamo, rotondo complessivamente. Ebbene, Intesa San Paolo e Easy Bank stanno lavorando in questa direzione e lo fanno in modo molto sinergico. Quindi c'è una parte di persone che si occupano direttamente della banca, quindi sono le persone di Easy Bank, ma c'è una parte di persone che sono quelle che vengono chiamate come gruppo Easy Tech e sono quelle a stretto contatto con la parte di digitalizzazione fatta dalla banca. Perché è stata fatta questa scelta? Perché naturalmente lì ci sono le competenze che sono quelle proprie delle banche, dei sistemi complessi di questo tipo. D'altra parte, il sistema operativo della banca è un sistema che era cresciuto nel corso dei tempi e che era stato anche molte volte modificato e sarebbe stato difficile riuscire a trasformarlo in una piattaforma per una banca digitale come quella alla quale si sta lavorando. Quindi direi che è un progetto importante, importante per il Paese, importante per il sistema bancario, per cui credo che veramente questo possa essere uno stimolo.